Musica Nome Michelangelo Gigi Nickname Draven GQ Anno di nascita 93 E intendo 2093 93 avanti Cristo Genere di video Comice demenziale Poop E tutte le cratinate che mi vengono in testa Fa un'imitazione Nerd B Chiava dell'infanzia Odward Baldur Spirit Youtubers preferiti Memmedesimo UK Cosa faresti in caso di TESTO A sorpresa E' assurdo Microll Non era FUTUR Chi poterresti fra ZACCANASTA PIMBU TENZIN Ma ZACCANASTA ovviamente PORCO TENZIN Sai cos'è un tartaceto? Una salsa al gusto di criceto Ehm... Un criceto ninja corazzato Squadra di calcio preferita? ITTIAD AL SHABAB CLUB Qual è il vostro attenta del lancio rosa s il tuo talento nascosto me è il mio preferito mi dia cosa devo fare signor, dimmi eeeh, e già io sono ancora trono cosa ne pensi dell'altro? è un maledetto trono, eh? l'intervista è finita, grazie per il vostro tempo per vista l'intervista è finita non 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 ah non non non